La sua sede si trovava esattamente nell'epicentro della scossa del 29 maggio 2012. Dopo essere stato dichiarato ineggibile, l'edificio è stato abbattuto. Ha dovuto delocalizzare materiali utensili e spostare gli uffici nei container, ma in questi mesi la cooperativa Agriverde di Medolla non ha mai cessato la propria attività. Nata nel 1985 e aderente a Conf Cooperative Modena, Agriverde è specializzata nella progettazione e realizzazione di giardini chiave in mano, completi cioè di impianti di irrigazione automatici, camminamenti, percorsi, arredita esterno, pergole e gazebo. Il terremoto ha colpito duramente nella nostra zona e anche nella nostra sede. Noi eravamo esattamente nell'epicentro della scossa del 29 maggio e questo ha comportato che la nostra sede è stata dichiarata immediatamente inagibile e dopo pochi mesi è stata abbattuta. Questo ha comportato un adattamento da parte nostra, nel senso che abbiamo potuto trasferire tutti i materiali, c'è stata una delocalizzazione importante e a tutto oggi stiamo aspettando normative corrette per la ricostruzione. In più il terremoto ha colpito molto anche le nostre aziende clienti dove noi facevamo e facciamo tuttora manutenzione. Abbiamo comunque seguito i loro adattamenti, le loro necessità e abbiamo dato un supporto per la nostra piccola parte manutentiva a queste aziende che stanno con molto coraggio ricostruendo un pochino tutta la loro logistica e le loro sedi. 11 soci, un fatturato medio anno intorno al milione di euro, dal 1999 la cooperativa progetta e realizza anche piscine. Distribuisce in esclusiva per Modena e provincia le piscine Castiglione, azienda italiana leader del settore. Il punto di forza di Agriverde consiste nella capacità di integrare la piscina nel giardino del cliente. La cooperativa fornisce un servizio completo che comprende anche l'assistenza per la gestione sia dell'acqua che del verde. Da sei anni Agriverde realizza anche biopiscine o laghetti balneabili, bacine ornamentali d'acqua dolce privi di prodotti chimici e che usano sistemi naturali, principalmente piante, per filtrare l'acqua. Queste piscine, molto popolari nel nord Europa, stanno cominciando a diffondersi anche in Italia. La biopiscina è uno strumento innovativo, è una realizzazione molto di nicchia, molto riservata delle persone che amano dei cambiamenti naturali nello loro stile di vita. E noi, soprattutto nel nostro settore, dove la piscina diventa un elemento legato molto al giardino, quindi si crea un qualche cosa di significativo rispetto a quello che è l'angolo giardino. Una delle ultime biopiscine di Agriverde è stata realizzata a Monteveglio, sulle colline tra Modena e Bologna, presso l'agriturismo gestito dalla cooperativa Corte d'Aibo, che produce vino secondo i dettami dell'agricoltura biologica. Abbiamo scelto una biopiscina di Agriverde perché studiavamo qualcosa da dare ai nostri clienti dell'agriturismo per passare la giornata qui a Corte d'Aibo e la piscina era la cosa più naturale, ma poi, pensando e ripensando, questo specchio azzurro in mezzo a queste colline, in mezzo ai vigneti, non ci convinceva fino in fondo. Considerando anche che è 30 anni che noi facciamo vino biologico e conduciamo i nostri vigneti secondo i dettami dell'agricoltura biologica, abbiamo pensato, quando Giorgio ci ha presentato il funzionamento del Biolago, senza cloro, senza additivi, senza niente, abbiamo pensato che fosse la cosa giusta per le nostre esigenze. E così siamo partiti e dopo due anni posso dire che io personalmente sono molto soddisfatto e molto soddisfatta è anche la clientela che viene all'agriturismo che si diletta durante le giornate estive a fare il bagno nel Biolago. Grazie per la visione!